Meduse, granchio blu, salinità, acqua grossa e adesso la ciliegina sulla torta, le alghe. Gli allevatori di vongole veraci vedono tornare prepotente il problema alghe. Ne raccolgono in quantità e quante ne raccolgono tante ne crescono, rendendo problematico l'allevamento delle veraci che rischiano di soffocare. Un'impresa ardua per chi lavora il prodotto, mantenere pulito l'allevamento. Un problema che la mancanza di correnti non può che accentuare. La necessità di ripristinare i fondali dei canali nella laguna è un problema annoso che non sembra sia ancora risolto, eppure è fondamentale. La gestione delle concessioni da inizio anno è in mano a Veneto Agricoltura e la situazione non sembra comunque essere migliorata. Certo, sono le condizioni climatiche a decretare la presenza delle alghe, ma fondamentale l'intervento umano nelle concessioni per ripristinare una situazione ottimale per l'allevamento delle veraci, delle ostriche e di quanto altro qua ha volontà di crescere. Gli allevatori stanno facendo fatica e nessuno, afferma, non sta dando risalto a questo grosso problema che sta interessando Sacca Toro, laguna Veneta Sud. L'acquacoltura è un'eccellenza del territorio, ma sembra non si faccia nulla in questa zona per aiutarla. Gli allevatori non stanno cercando fondi, ma stanno insistendo sul dragaggio dei canali. La laguna rischia di interrarsi e su modalità pratiche per liberarsi dalle alghe. Siamo nello studio del servizio Nordest 2.0 e volevamo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizzi, in particolare su Superbonus, gli interventi prevalentemente condominali di efficientamento energetico. Superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su Superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, servizi Nordest 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.